Musica Un cordiale saluto a tutti voi, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV sul 17 come sempre c'è la rassegna stampa al mattino in diretta alle 7.30 rassegna che poi si replica nel corso della mattinata fino alle 8.30 in replica a rullo poi alle 9.10 e alle 13.30 Ben ritrovati a tutti, allora cominciamo subito con il santo del giorno oggi è Sant'Alfonso Maria dei Liguori, il sole è sorto alle 5.56 e tramonterà alle 20.33 anche oggi avremo una giornata di sole e di bel tempo con questa immagine che ci mostra subito uno scatto tra i tanti che ogni ora, anzi ogni minuto perché la webcam del nostro osservatorio meteorologico riprende questa parte della città di Fano tutti i minuti poi per chi vuole ogni ora andando nel sito internet all'interno dell'osservatorio c'è la possibilità di vedere la webcam, chissà se possiamo farlo, vediamo sotto, eccola qua dà la possibilità di vedere l'evoluzione del tempo delle ultime 24 ore vedete questo è il maltempo, le nuvole di ieri poi il cielo che si rasserena, eccetera eccetera vedete c'è anche questa bellissima immagine del tramonto quindi ogni tanto per chi ama i disegni, per chi ama i colori del cielo, della natura può andare su questa pagina e vedere mentre per coloro che sono interessati a tutti i dettagli tutti i dettagli del tempo, la pioggia, l'umidità, i dati relativi all'ultimo mese e quant'altro ci sono tutte pagine interessanti che all'interno raccolgono i dati degli ultimi periodi allora invece per quanto riguarda l'attualità il giorno, oggi, le previsioni per la giornata di oggi la protezione civile delle marche prevede cielo sereno o al più poco nuvoloso al mattino con l'aumento però della nuvolosità nel corso del pomeriggio a partire dai settori occidentali a partire dal tardo pomeriggio o la sera non si escludono deboli e locali fenomeni sui settori montani della regione le temperature sono in lieve aumento per la giornata di domani, domani è festa del mare a Fano 2 agosto sono previsti tra l'altro i fuochi d'artificio alla sera insomma tutte le manifestazioni, tutti gli appuntamenti della tipica giornata della festa del mare che sono tanti, cominciano dal mattino l'uscita in mare, il lancio della corona e quant'altro allora domani sarà cielo nuvoloso in particolare durante il primo mattino poi nel corso della giornata avremo ampie schiarite alternate ad addensamenti cumuliformi quindi alle nuvole rovescio temporali sparsi di prima al primo mattino che potranno risultare più intensi ai lungo la fascia costiera al pomeriggio possibili locali residui fenomeni temporaleschi le temperature sono senza variazione di rilievo per la giornata di lunedì invece 3 agosto vedete il tempo sarà buono con cielo sereno o poco nuvoloso soprattutto dalle parti del Conero Monte Conero almeno la prima parte della settimana prossima secondo la protezione civile ci sarà tempo stabile e soleggiato ieri Mario, il complice di Igli nel dilitto di Ismaele Lulli ieri Mario dicevo ha chiesto alla PM Irene Lilliu di essere di nuovo ascoltato ha parlato per 4 ore e mezzo gli ha raccontato di nuovo la sua versione dei fatti e sostanzialmente ha detto io ho visto Igli uccidere Ismaele ma ero troppo lontano e non potevo fare a quel punto nulla poi ha anche detto aggiungendo dunque dei nuovi particolari rispetto al precedente racconto ha detto anche di aver aiutato Igli a ripulire la croce dove è stato sgozzato il povero Ismaele di questo naturalmente si parla questa mattina sui quotidiani cominciamo allora dal resto del Carlino Mario ce l'aveva con Ismaele e per questo Igli lo aveva scelto però ci sono almeno 4-5 amici che sapevano di questa annunciata lezione tra virgolette al 17enne nel riquadro vedete invece Ambera o Ambra come vi piace di più Ambra che è stata ascoltata l'altro giorno non è indagata dalla procura resta persona informata dei fatti l'avvocato Martinez invece restano dubbi su come Ismaele si è salito in auto con due persone che temeva di cui aveva paura e poi il bagno purificatore la nuova versione del complice quindi di Mario sì ho visto tagliare la gola a Ismaele ma ero lontano almeno 15 metri e poi un fake un fake è un profilo falso di Igli Meta è stato denunciato e subito cancellato da Facebook commentava su Spotted col nome appunto dell'assassino poi sempre su questo argomento andiamo sul messaggero ho visto Igli uccidere Ismaele oltre 4 ore di faccia a faccia tra Mario Mema e il PM Lilliu ero distante non ho potuto fare nulla e non ho toccato il coltello nelle dichiarazioni spontanee ha corretto la prima versione il suo legale Levi dice non ci sono né premeditazione né concorso allora i protagonisti li sapete già lo ricordiamo per chi non avesse o per chi ecco non si ricordasse non avesse bene in mente la figura dei personaggi allora Mario Mema è questo ragazzo qui che ieri ha deposto ancora ha raccontato la sua versione questo invece re ho confesso l'autore del delitto colui che a un certo punto ha legato il povero Ismaele eccolo qui dice a 7 anni di Sant'Angelo Invado l'ha legato qui alla croce l'ha legato gli ha fatto questo interrogatorio poi qualcosa gli è sfuggito sicuramente black out e a un certo punto ha preso il coltello e gli ha tagliato la gola il Corriere Adriatico invece il Corriere Adriatico di Pesaro no il Corriere Adriatico lo mette sulla pagina sulla pagina nazionale qui c'è una seconda pagina credo quindi non ce l'abbiamo comunque è in linea con quello che abbiamo visto sin qui andiamo avanti allora con il resto del Carlino con la rassegna stampa poi si occupa in Pesaro primo piano di una badante che ha rubato un telefono un iPhone da 1000 euro ma poi è stata rintracciata e condannata anche perché c'è un'applicazione fantastica sull'iPhone che ti consente di vedere dov'è in che luogo in che punto si trova sottratto ad un cliente di una tabaccheria di Viale Trieste il derubato aveva appena vinto 200 euro al gratte vinci poi si è distratto e insomma ne ha vinti 200 ne ha persi 1000 insomma alla fine gli è andata così così ma alla fine l'ha ritrovato quindi è andato bene andiamo sull'altra pagina invece del resto del Carlino c'è il racconto di questa bruttissima storia di un dramma un dramma che si è consumato ieri al Tribunale dei Minori di Ancona un papà di 42 anni residente a Pesaro si è dato fuoco dopo che il giudice aveva deciso per l'allontanamento del figlioletto un uomo di 42 anni originario di Bari residente a Pesaro in condizione adesso disperata all'ospedale di Torrette con ustioni fino al terzo grado su quasi tutto il corpo poi ancora sulla pagina di Fano invece del resto del Carlino opere compensative per 70 milioni di euro si comincia tra autunno e primavera il sindaco si dice soddisfatto rigenerati tre quarti della circonvalazione per quanto riguarda la 14 invece c'è stato un incontro a Roma era presente anche la Morani le strategie del governo stanno dando buoni frutti poi agosto torrido per 1200 impiegati di Fano stiamo parlando della vertenza Saipem il coordinamento della RSU sarà a settembre ancora non si sa come saranno ripartiti gli 8800 esuberi che sono stati annunciati dall'azienda torna invece il palio il palio delle contrade a Fano il palio ritrovato annunciata per fine mese la seconda edizione poi invece tutto pronto per in giro per Fano che è in giro per Fano quindi c'è addirittura hanno pensato di scriverlo sia in fanese in italiano ma anche in inglese questo nome che sta avendo comunque un buon successo di pubblico un progetto interessante in giro per Fano un'iniziativa che partirà da San Paterniano a 19.30 insomma un tour una visita in giro per Fano con degustazioni e quant'altro a Fossombrone invece andiamo a Fossombrone perché un uomo che è stato derubato è incastrato poi alla fine i suoi ladri gli portano via la borsa dal furgone e lo ricattano su Facebook Fabrizio Santori è andato all'appuntamento però con i carabinieri prima gli ha anche qui gli ha rubato l'iPhone iPad e carte di credito poi l'ha agganciato su Facebook per restituirli prevo il pagamento però di 200 euro la vittima non si è fatta intimorire è andata certamente all'appuntamento con lo sconosciuto accompagnato però dai carabinieri che l'hanno arrestato in flagranza di reato e gli avrei dato anche un bel tapiro poi sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico non è in vigore nessun divieto di ballo dice Marcheggiani che è il vice sindaco del comune e che smentisce l'ex assessore Alberto Santorelli ma la sua delibera riguarda solo i decibel al mare e al centro cioè il volume sopra il quale non è possibile andare altrimenti si viene multati millantare ostacoli significa fare del male alla città e all'opera di promozione di comune e privati poi si parla dell'apertura del festival internazionale di scacchi sul Corriere e sotto a proposito di furti e di raid ladreschi nelle abitazioni ebbene c'è chi sospetta l'uso degli spray colpi che sono stati messi a segno nei quartieri di Fano 2 al Vallato Gimarra al quartiere Fanfani a Baia Metauro e al Poderino le zone sono come vedete tante vanno da un punto all'altro della città e però c'è chi c'è chi si sta domandando se questi ladri insomma pur di entrare rubare indisturbati non usino non utilizzino uno spray che in sostanza facilita un po' in qualche modo faciliti il lavoro all'interno dell'abitazione quindi perché in effetti nessuno di questi si è accorto che dentro c'erano dei ladri insomma strano poi qualcuno avrà anche il suono pesante ma insomma incanto alla festa del mare si inaugura la Kermesse tra sacco e profano issate le vele dei pacalos allora questo è l'articolo con tutto il programma che riguarda appunto la festa del mare che ci sarà nella giornata del 2 di agosto una giornata importante una giornata nella quale come sempre tante persone tante persone affollano il lungomare e guardate questo colpo d'occhio questa fotografia così bella non so se siete mai saliti a bordo di un'imbarcazione durante la festa il lancio della corona dall'oro in mare davvero molto toccante quel momento in cui viene lanciata questa corona dopo una preghiera con tutte le sirene delle navi delle barche più che altro più che navi che si mettono a suonare all'unisono molto bello molto toccante emozionante poi qua invece si parla di un'iniziativa iniziativa del mese di giugno la Sassonia si colora di giochi allegria e la stagione dei bambini peccato che questa fotografia non credo si riferisca assolutamente visti i colori del mare eccetera alla Sassonia perché fosse così verrebbe da piantarci le tende per tutta l'estate in realtà il mare non è questo però comunque rende l'idea insomma i giardini in Niagara saranno la città di Tiremolla con gonfiabili baby dance e animazione itinerante poi ancora stiamo per chiudere la rassegna stampa andiamo velocemente a Senigallia perché a Senigallia si sta preparando il summer jamborì che è una manifestazione un'idea strepitosa che il comune che sta qua dietro a noi a pochissimi chilometri di distanza ha avuto e che gli sta portando davvero tanta 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 fortuna jamborì pronto il piano di emergenza isola pedonale serale dal corso alla statale nel caso di afflussi eccessivi verrà chiuso tutto il centro storico monachesi e le aree di sosta Villa Torlonia si dovranno pagare due euro al giorno come alla ex sacerit poi sempre sul corriere uno scontro frontale sempre da Senigallia scontro frontale tre feriti un uomo di 66 anni di ostra portato con l'eliabulanza alla torrette di Ancona stroncato da un malore invece un operaio di 34 anni Adriano Torreggiani abitava Cesanella da Pesaro ristoranti in spiaggia il comune si ribella scusate il commercio si ribella Varotti e Borgiani duri contro il sindaco di Pesaro Ricci e De Regis si premiano gli abusivi e si distrugge un'intera categoria da sempre la confcommercio confesercenti contrari a chi affinché insomma i concessionari di spiaggia facciano anche i ristoratori il comune ha prodotto l'ennesimo condono che sana un passato di malagestione e assenza di controlli mentre più sotto vedete la foto di queste due ragazze due sorelle Giorgia e Gloria Rastelletti sollievo per Giorgia che si è salvata da questo terribile incidente mentre la sorella Gloria purtroppo non ce l'ha fatta è morta stiamo parlando dell'incidente avvenuto in Australia c'è stato questo intervento chirurgico che per fortuna è riuscito intanto alle 21 nella chiesa di Cristo Risorto si prega appunto per gloria ancora dal quotidiano di Ancona da Pesaro fiamme gialle in alto mare la finanza si affianca alle altre forze per aumentare controlli e sicurezza detenuto aggredisce un poliziotto a Fossombrone non voleva essere trasferito al carcere di Ascoli lo scoppio di violenza durante le pratiche per il trasloco una guardia è finita all'ospedale siamo in chiusura allora velocemente il messaggero centro storico a Pesaro via libera ai supermercati il consiglio approva il PRG Light maggioranza compatta 5 stelle forze etare contrari siamo Pesaro e nuovo centrodestra si sono astenuti Matteo Ricci dice non abbiamo voluto rinviare perché c'è chi aspetta da anni di investire soldi nel centro storico ora si riempia anche l'ex cubo poi tra AFA e si cita un centro storico scusate tra AFA e si cita uno storico record per il luglio più caldo di sempre l'osservatorio Valerio ha stabilito una media di temperatura di 27 gradi e 2 ma con la pioggia di ieri non c'è stato il primato dello zero precipitazioni giusto due gocce per rovinare il primato se no ci sarebbe stato anche il primato di luglio senza pioggia spiagge scelta scelerata vedete liberalizzare i ristoranti mentre a Pesaro sempre pronto il palio dei braceri palio pronto a premiare la bellezza e la generosità al Santa Marta piovono calcinacci agibilità a rischio problemi alla ripresa dell'anno scolastico per l'alberghiero gli studenti potrebbero essere trasferiti all'ex Bramante poi ancora dalla pagina di Fano del messaggero Saipem pressing della regione per i lavoratori a rischio esuberi parla interviene anche il consigliere regionale Renato Claudio Minardi la sede fanese 19 a 1200 tecnici il cui destino torna ad essere incerto e sempre dal quotidiano romano gli tolgono il figlio si dà fuoco in tribunale l'uomo un bodyguard di Pesaro dopo la sentenza del 24 luglio aveva già tentato il suicidio ed è tutto grazie per aver seguito la nostra segna stampa vi auguro un buon fine settimana noi ci rivediamo lunedì mattina alle 7.30 arrivederci un buon fine digitale Autore dei sorrisi